Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi è giunto il momento di mantenere le promesse visto che vi avevo detto che il video della collezione aggiornata sarebbe arrivato prima di Natale e prima della fine dell'anno così non è stato, non ci sono riuscito, ma oggi cascasse il mondo, girerò questo video quindi faccio questa premessa, ragazzi il video verrà registrato successivamente nel senso che adesso sto registrando questa parte per avvisarvi delle mie intenzioni e adesso una volta finito di girare alcuni altri video smonterò la mia telecamera e con quella alla mano vi mostrerò tutta la nuova disposizione della collezione vi avviso già che alcuni pezzi non saranno presenti nella collezione o perché sono stati venduti o perché sono stati portati in cantina dentro degli scatoloni visto che stavano diventando davvero troppi ho deciso di selezionare solo le cose che più mi piacciono quello che ritengo il meglio della mia collezione così da tenerlo sempre in bella vista e naturalmente anche qui sto aggiungendo sempre dei pezzi e alcuni sono anche in arrivo piccolo spoiler, ad esempio ho già acquistato da un privato la Puffola Pygmea Mystery Mini che era l'ultimo pezzo che mi mancava per completare la mia collezione di animali fantastici del mondo di Harry Potter quindi sono molto contento, spero che arrivi presto e poi vi mostrerò durante questo video anche un baule questo baule ha una storia particolare che adesso vi racconterò così faccia a faccia e poi vi mostrerò nella collezione al Warner Bros Studio Tour era in vendita il baule dei bagagli del mondo di Harry Potter, chiamiamolo così ed era anche possibile personalizzarlo facendo stampare sul fianco le nostre iniziali o si poteva acquistare semplicemente quello con le iniziali HP che sarebbe stato quello che io probabilmente avrei scelto era un baule col logo sopra di Hogwarts, con lo stemma di Hogwarts e questo baule però costava parecchio si trovava dentro la parte dedicata al binario 9 e 3 quarti e costava, se non ricordo male, circa 80 sterline quindi quasi 100 euro era molto bello, molto ingombrante quindi anche volendo era difficile da acquistare e portasselo dietro tutto il giorno e infatti non l'ho acquistato cosa succede? Colpo di scena per Natale i miei amici, gli stessi amici che erano con me durante il viaggio a Londra hanno trovato e mi hanno regalato il baule lo stesso identico baule però l'hanno acquistato da Conforama naturalmente per una cifra molto molto più bassa di quella che veniva chiesta lì non so esattamente quale fosse ma mi hanno detto che naturalmente costava meno l'unica differenza è che sul baule non c'era né lo stemma di Hogwarts né le iniziali ma io non mi sono lasciato scoraggiare ed ho passato tutto il 25 e il 26 dicembre a disegnare a mano e naturalmente mi sono creato degli stencil mi sono creato delle guide stampando lo stemma di Hogwarts cercando lo stesso stemma su Google e stampandolo prendendo le misure ho fatto un po' di ricerche e ragazzi adesso vi mostrerò il risultato finale io sono molto molto contento non ci ho fatto un video, non ve l'ho mostrato su Instagram e ovviamente ci tengo che mi commentiate sotto facendomi sapere cosa ne pensate del mio lavoro io non sono un grande artista non sono chissà quale grande mago del disegno però mi sono impegnato parecchio quindi fatemi sapere sotto bene ragazzi detto questo io adesso spengo la videocamera finisco di registrare alcuni video e poi giuro che tra pochi secondi partirà il video della nuova collezione ed eccoci qui ragazzi a cominciare il tour della mia collezione è come non cominciare dal pezzo che ogni volta vedete alle mie spalle si tratta naturalmente del castello di Hogwarts di Lego è uno dei pezzi naturalmente che più mi piacciono della mia collezione e ragazzi colgo l'occasione per farvelo vedere un po' meglio guardate fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate io ho inserito qui all'interno del piazzale Harry, Ron Edermione e poi ho piazzato qualche studente qui nei corridoi quello dovrebbe essere se non sbaglio Gazza di spalle e poi ragazzi qui abbiamo anche la capanna di Hagrid e il platano picchiatore e posso dirvi a distanza di un anno che non mi sono assolutamente pentito di questo acquisto e che lo rifarei altre mille volte quella dietro che vedete invece è la lampada di Oki si chiama Aura e la trovate linkata in infobox ma passiamo adesso ai Funko Pop che anche questi stanno alle mie spalle qui trovate sia Hermione esclusivo Topic che Hermione polisuccata mentre in questa versione qui sta preparando la pozione polisucco abbiamo tra i vari Pop in questa sezione tutti i fantasmi di Hogwarts Serafina dal film di Animali Fantastici e poi Voldemort con Nagini Misteri Mini Codaliscia Lucius Maffoi mascherato abbiamo Graves il dissennatore e poi qui pezzo più importante sicuramente questo qui esclusiva del Comic Con di Nagini versione umana nella parte bassa troviamo il Tripack delle creature questo qui è uno dei pezzi più rari della mia collezione vale circa 130-150 euro e poi abbiamo anche il Misteri Mini di Dobby e di Errol o Leotordo non ho mai capito di chi si tratti quindi ragazzi fatemi sapere voi andando avanti ho un po' come vedete rimodellato tutta l'esposizione acquistando anche questo piccolo espositore e abbiamo qui sul davanti Karkaroff dell'ultima Wave di Harry Potter e poi abbiamo su anche in questo caso nuovi pezzi come la professoressa Koeman abbiamo l'esclusiva New York Comic Con del professor Piton Molliccio abbiamo Gazza anche quella esclusiva e poi pezzo di cui vado fiero anche il Misteri Mini di Antonio il piccolo Chupacabras e poi spostandoci ecco che troviamo anche l'una con gli spettropoli del Comic Con di San Diego se non ricordo male di circa due anni fa o tre anni fa anche questo un pop che sta sui 100 euro e poi nella parte superiore ecco che troviamo Lupin sia in versione umana che il lupo Mannaro poi tutti i vari professori di Hogwarts spiccano per valore diciamo così il pop del professor Raptor e anche il Misteri Mini in versione gatto della McGranit che è abbastanza raro da trovare questa sezione qui invece l'ho dedicata ad animali fantastici e troviamo il pop di Occami che forse è il pop più caro al momento tra tutti quelli di Harry Potter e quello più difficile da reperire per chi volesse cominciare adesso la collezione e poi abbiamo anche il Matagò dal secondo film di Animali Fantastici ragazzi questo qui è stato dichiarato ufficialmente vaulted quindi ritirato qualora vi mancasse recuperatelo ora perché sarà sempre più difficile da trovare e poi troviamo anche qui alle spalle ho messo al centro Newt Scamander con dietro lo Fuper ho preso anche il Mooncalf che è un'esclusiva di Walgreens se non ricordo male dietro anche l'esclusiva Amazon del Demigyze versione trasparente mentre in alto c'è anche il Demigyze qui dietro in versione normale abbiamo anche il Basilisco uno dei pezzi che più mi ha fatto penare e poi abbiamo anche l'esclusiva del New York Comic Con dell'Oguri dell'anno scorso e poi abbiamo anche il Keychain il portachiavi dello Snaso che io ho rimosso dalla parte superiore ho rimosso la catenella che si può svitare ed ho ottenuto solo lo Snaso sempre per la mia mania delle proporzioni e anche questa qui la sirena che invece ho beccato a Etna Comics la scorsa estate per soli 10 euro questo è un mystery mini che vale almeno 50 euro poi spostandoci un attimo ecco che abbiamo anche lo Zoo e poi i due pop qui Chase abbiamo i crimini di Grindelwald abbiamo il pop Chase di Newt e il Chase di Sirius Black al momento sono gli unici due Chase esistenti dal mondo di Harry Potter salendo ancora nella parte superiore che forse non vedete mai nei video ecco che abbiamo il drago lungaro spinato misteri mini poi Thor con la capanna di Hagrid abbiamo il misteri mini del Testral e il Testral Pop dietro abbiamo anche Hagrid con Madame Maxim che ho messo su un bicchierino trasparente così da renderla un pochino più alta e poi abbiamo dietro l'espositore abbiamo anche il treno l'espresso per Hogwarts e poi ecco che qui abbiamo alcuni pop del Quidditch Harry Quidditch anche questo qui versione San Diego Comic Con poi abbiamo Ron e Ginny e Drago con la scopa e invece dietro ecco che vediamo Ron sul cavallo facendo una breve carrellata ecco che vediamo i pop di Harry Ron e Hermione con i loro misteri mini animali tra questi qui esposti troviamo diverse esclusive come il Tripak lì in alto dei fratelli Weasley che invece è stato rilasciato per l'Emerald Comic Con lo scorso anno poi abbiamo anche il pop qui in alto di Rita Skeeter anche quella esclusiva Comic Con e poi un altro abbastanza raro è Sims Finnegan esclusiva Book a Million e poi dietro di lui c'è anche la prima edizione di Cedric Diggory anche questa era abbastanza rara ora è stata un po' ristampata però io ho quello con la prima scatola la prima versione e ragazzi così si conclude un po' la mia collezione di Funko Pop di Harry Potter adesso invece ci spostiamo su un altro mobile che avete visto parecchio sulle storie di Instagram questo dicembre perché sulla parte superiore di questa libreria ho poggiato il calendario dell'avvento di Lego ed ecco qui una breve carrellata con tutti i personaggi che ho trovato all'interno mi è piaciuto moltissimo questo calendario e spero che l'anno prossimo lo facciano di nuovo e poi andando giù ecco che troviamo i primi pezzi di Noble Collection qui abbiamo la fiaschetta di Malocchio Muti della Pozione Polisucco che ho messo esposta qui su questo porta piattini porta foto che ho preso semplicemente dai cinesi per pochi centesimi poi dietro abbiamo le teche di alcuni animali fantastici ecco che troviamo quella di Edvige quella del Goblin della Gringot quella del Basilisco e anche quella dell'Asticello poi qui davanti c'è la Sfera della Profezia di Noble Collection e poi accanto ecco che abbiamo le monete della Gringot questo un acquisto abbastanza recente e poi questi che sono acquisti fatti a Londra durante il mio ultimo viaggio la chiave della Camera Blindata che Hagrid porta con sé e poi questa che è la Testolina del Notte Tempo abbiamo anche questa Sfera con i Dissenatori che è stato forse il primo pezzo di Noble Collection che ho acquistato lo trovai su Amazon per soli 20 euro ricondizionato non esistono più affari del genere su Amazon quindi ci metto una pietra sopra e poi abbiamo anche la tazza con lo stem di Hogwarts presa da Primark è stato un regalo poi abbiamo anche questa puffola pigmea fatta a mano che ho acquistato ad Etna Comics e questa che è una mandragorina che mi è stata regalata dai miei amici che sono stati a Luca Comics e l'hanno acquistata lì anche questa fatta a mano ma adesso ci tocca scendere ancora perché passiamo alla sezione libri qui c'è tutta una sezione dedicata ai libri illustrati da Jim Kay abbiamo La Pietra Filosofale La Camera dei Segreti Il Pigioniero di Azca va nell'ultimo arrivato Il Cadice di Fuoco ho anche le versioni illustrate delle Fiabbe di Bedelbardo e Animali Fantastici quindi adesso manca quella del Quidditch attraverso i secoli che spero faranno uscire a breve qui abbiamo i miei libri quindi la mia collezione di libri di Harry Potter quelli che io ho letto quando ero ragazzino e poi abbiamo i segnalibri i fermalibri scusate di Noble Collection quelli disegnati da Mina Lima che ho acquistato l'anno scorso e poi ho anche le prime edizioni delle Fiabbe di Bedelbardo del Quidditch attraverso i secoli e di Animali Fantastici e dove trovarli questi libretti qui valgono circa 50-60 euro l'uno sono la primissima edizione ve li ho già mostrati in passato e poi abbiamo Harry Potter e la Pietra Filosofale edizione inglese del ventesimo anniversario l'ho presa di tutte le case e il proposito del nuovo anno è quella di prendere anche quelle successive ma solo di Corvo Nero non credo che le farò tutte e poi qui il Nottetempo salvadanaio che invece mi ha mandato EMP circa due anni fa andiamo ancora giù e troviamo una montagna di libri ragazzi tutti i volumi di Panini Comics schermi incantati libro dei personaggi dalla pagina allo schermo qui di lato ho anche le brochure che ho acquistato allo studio tour e a Harry Potter Exhibition di Milano qui in alto abbiamo il libro pop-up di Harry Potter questo qui dedicato alla mostra della British Library poi qui abbiamo anche le sceneggiature dei crimini di Grindelwald questa qua firmata da Mina Lima e questa qui invece in italiano del primo Animali Fantastici qui c'è l'arte di Harry Potter tutti i volumi di HarperCollins quindi la valigia dello snaso gli archivi della magia Chuck si gira questi altri tacquini di Panini Comics e poi Harry Potter è la maledizione dell'erede sia in italiano che in inglese ma il pezzo più importante è naturalmente questo qui che è chiuso e sigillato nel suo cellophane si tratta della Collector Edition delle fiabe di Bedelbardo questa ha un valore molto molto alto e ragazzi c'è un video dedicato qui sul canale che magari vi lascio nelle schede e adesso passiamo alla prossima libreria eccoci qua questa è la parte superiore dove già potete vedere il baule che mi è stato regalato ma questo ve lo aprirò alla fine ve lo mostrerò meglio accanto c'è la coppa del torneo tre maghi che ho acquistato a Londra di recente e questi sono due quadri che ha realizzato Sio per me e sono molto molto contento ne vado molto fiero ma adesso andando sul primo scaffale sulla prima mensola della libreria ecco che questa è dedicata interamente al Noble Collection abbiamo la giratempo abbiamo anche la fenice sul suo trespolo poi c'è la mappa del malandrino questo portapenne con le quattro penne delle case di Hogwarts lo snaso Noble Collection che era in allegato con l'uscita del primo film in blu-ray di Animali Fantastici era tutto un pacchetto una edizione speciale che era venduta su Amazon e che forse ancora si trova naturalmente ve la lascio linkata sotto in infobox e poi abbiamo la bottiglia di Skelegros che ho acquistato qualche mese fa su Merchoid che naturalmente trovate anche di questo il video sul canale e anche il link e poi la spada di Grifondoro tagliacarte questo è anche uno dei miei primi acquisti di Noble Collection e poi dietro l'uovo della prova del lago quindi ragazzi questo è anche un pezzo che a me ha fatto gola per tantissimo tempo e quando sono riuscito a prenderlo sono stato davvero contentissimo questa invece è una collanina dei Doni della Morte questa l'ho presa su Aliexpress perché ancora non ho acquistato quella lì Noble Collection l'ho sempre messa un po' da parte ho dato precedenza ad altre cose ma prima o poi la sostituirò con quella la originale andiamo ancora giù ed ecco che qui invece abbiamo una piccola selezione di statuine che ho ottenuto di quelle di Agostini tutto il resto è stato venduto ma ho ottenuto per me le creature come il Testral Fiero Becco il Troll di Montagna il Dissenatore Fuffi e poi i Dustley visto che non esistono pop non esiste nulla dei Dustley e poi la prima versione del trio qui abbiamo Hermione con la pozione Polisucco Harry con la civetta e Ron con crosta poi abbiamo Dobby Hagrid e Fiorenzo ottenuto solo questi pezzi qui invece una piccola sezione dedicata a Mielandia dove abbiamo il set di Gomme da Cancellare di Mielandia che era un'esclusiva di Loot Crate e poi abbiamo la Cioccorana di Nobo Collection molto molto bella anche questa ragazzi trovate tutti i video sul canale e poi abbiamo le Gelatine Tutti i Gusti più uno che io ho rimpiazzato con delle pietre colorate prese dai cinesi e con le stesse pietre ho riempito anche questo barattolo che avevo acquistato con delle caramelle all'Harry Potter Exhibition di Milano questa è una bottiglia di Burro Birra naturalmente non ufficiale ragazzi però è l'unica Burro Birra in commercio e poi abbiamo anche il boccino d'oro di Running Press questo l'avete comprato praticamente tutti e poi abbiamo anche il boccale della Burro Birra preso al tour anche questo qua ad ottobre durante il mio ultimo viaggio e poi abbiamo anche questa cipolla questo orologio dei Doni della Morte anche questo ufficiale lo trovai in una Loot Crate e poi sotto qui il set da Quidditch di Running Press quindi qualora foste interessati a recuperare qualche pezzo trovate tutti i video e sotto ancora abbiamo invece una mensola dedicata agli Orfrux qui ho aggiunto la zanna di Basilisco che ho trovato nel box delle arti oscure di Running Press che vi ho mostrato da poco abbiamo l'anello dei Gaunt il diario di Tom Riddle la coppa di Tasso Rosso dietro abbiamo anche Nagini e poi abbiamo il medaglione di Serpe Verde e qui dentro abbiamo invece la tiara il diadema di Corvo Nero ecco invece quest'altra mensola dove troviamo i tre mini libri di Insight Edition questi sono molto belli vi devo ancora mostrare questo che è il terzo quello dedicato ai luoghi magici di Harry Potter e poi dietro invece troviamo una box con le cento cartoline che vi ho già mostrato qui c'è la valigia di Running Press di Nutscamander il pensatoio il box delle arti oscure mentre qui accanto troviamo il passaporto che ancora vi devo mostrare che ho preso al Warner Bros. Studio Tour questo viene regalato all'ingresso ma bisogna chiederlo perché di solito lo danno solo ai bambini e ve lo spiegherò più avanti ve lo mostrerò meglio all'interno e poi ecco che abbiamo qui una copia una agenda che va a riprodurre Animali Fantastici la prima edizione e poi abbiamo altre agende questa qui mi è stata regalata dai miei amici per Natale che va a riprodurre il diario di Nutscamander e poi qui invece c'è lo specchio di Primark lo specchio delle brame che devo ancora collocare e poi gli scatti magici che invece avevo preso su EMP e poi qui queste ancora le devo appendere troviamo queste che sono le cartoline di Mina Lima che ho acquistato nel loro negozio e abbiamo questo Wanted di Bellatrix con la foto animata le ho messe in queste cornici da un euro di Ikea e poi abbiamo l'indesiderabile numero uno questa qui di Harry come vedete la foto si muove e poi ho preso anche questa qui che è quella di Sirius Black del Wanted le ho messe in queste piccole cornicette e vediamo al più presto cercherò di appenderle da qualche parte ultima mensola quella più bassa troviamo il pack con la nuova versione del gioco del Trivia Pursuit e il DVD con tutti e otto i film di Harry Potter dietro troviamo tutte le bacchette Noble Collection limpilate la tazza che ho preso allo studio tour e poi qui accanto invece troviamo altri libri che non sono proprio ufficiali o alcuni sì altri no che invece però ritengo molto molto utili che ho messo qui come la biografia della Rowling di Marina Lenti e anche gli altri suoi volumi abbiamo anche la guida completa alla saga di Harry Potter la prima edizione dei doni della morte della Bloomsbury quella inglese abbiamo anche la prima edizione della pietra filosofale sia in inglese che in italiano in questa edizione qui il Lexicon e poi questo qui che è un libro che a me è piaciuto moltissimo La maga dietro Harry Potter costa poco ma ve lo consiglio tantissimo e adesso non ci resta che andare a guardare il baule eccolo qui in tutto il suo splendore ragazzi è esattamente lo stesso baule che vendevano lì al binario l'ho paragonato dalle immagini l'ho cercato su internet è uguale non cambia assolutamente nulla mancano solamente il logo di Hogwarts lo stemma e le iniziali io ho messo qui HP con un'uniposca ho stampato semplicemente HP con la stampante ho ritagliato la parte interna l'ho poggiata qui e ho ripassato tutto con l'uniposca questo è stato molto molto semplice la parte più complicata è stata naturalmente quella per realizzare questo che è lo stemma di Hogwarts che non è precisissimo però è stato fatto tutto a mano l'ho copiato passo passo pezzo per pezzo da un'immagine presa da internet del baule originale ho scontornato il logo l'ho stampato l'ho realizzato della giusta dimensione e piano piano sono riuscito a realizzare questo qui questo stemma che poi ho ricoperto con una vernice trasparente così che non si possa andare a cancellare io ne vado abbastanza fiero perché il risultato finale è molto molto simile a quello originale che magari adesso vi mostro in sovraimpressione fatemi sapere voi cosa ne pensate secondo me si avvicina moltissimo a quello originale la spesa è stata irrisoria paragonata a quella lì ma adesso ve lo mostro anche all'interno perché l'ho già riempito con alcune cose che non hanno trovato posto nella collezione ma che non volevo portare in cantina ecco qui la parte frontale che si apre così si tira da qua e da quest'altra parte e poi ecco che si va a sollevare all'interno è tutto il legno e ecco che vi vado a mostrare quello che ho messo all'interno abbiamo diverse cose c'è ad esempio la cioccorana questa qui che acquistai al tour quella in carta questa candela di Primark della cioccorana profumata al cioccolato poi abbiamo la prima edizione del Trivial Pursuit qui ci sono anche le due collezioni dei Wizis di Harry Potter una tazza che è anche tutta impolverata che schifo e poi abbiamo questo che è un piccolo carillon in legno che ho acquistato se non sbaglio su ebay o su AliExpress per pochi euro e va a riprodurre la melodia del tema di Edwige quella classica di Harry Potter poi qui invece abbiamo ad esempio i crimini di Grindelwald il frammento di pellicola che mi è stato regalato da Warner Bros quando hanno rilasciato il secondo film in home video poi questo che invece è il diario di Harry Potter quello elettronico residui dell'infanzia poi qui invece abbiamo tutti i francobolli e ad esempio altri frammenti della pellicola questo qui con Voldemort questa qui è la collezione dei francobolli e poi dovrebbero esserci anche altre pellicole segnalibri ne ho davvero di tutti i tipi questo è un altro francobollo dovrebbero anche esserci segnalibri che mi sono stati inviati da scheggi di cinema eccoli qui ve li ho mostrati di recente tutte queste le ho messe per ora dentro questo box dentro questo baule in modo da conservarli in attesa di una collocazione migliore abbiamo le carte di uno di Harry Potter queste sono vecchissime abbiamo altre tazze del Warner Bros Studio Tour e poi questa tazza qui di Edvige in ceramica e anche questo qui che è Nagini e poi dovrebbe esserci da qualche parte anche la bacchetta di Piton che si illumina dovrebbe essere sempre qui dentro quindi questo è tutto il contenuto del mio splendido baule ragazzi sono davvero innamorato di questo baule di Harry Potter eccomi di nuovo qui ragazzi sono sempre io Antonio dal passato naturalmente questo pezzo di video è stato registrato prima rispetto a quello che avete appena visto e naturalmente ci tenevo a salutarvi quindi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate anche della collezione dei pezzi che ho selezionato fatemi sapere qual è soprattutto il vostro pezzo preferito della mia collezione e qual è il prossimo pezzo che secondo voi dovrei acquistare naturalmente fatemi sapere tutto sotto nei commenti lasciate un mi piace commentate condividete il video con i vostri amici seguitemi su instagram antonio.seria e ragazzi io vi do appuntamento a presto sempre con tante altre novità ciao ciao Grazie a tutti.